Incidente mortale nel pomeriggio di domenica 1 novembre intorno alle 15 sulla strada provinciale 565 Pede Montana all'altezza del distributore di benzina a Bairo. Coinvolto una Fiat Grande Punto con a bordo una coppia e una moto Honda CBR 600 condotta da un uomo sulla cinquantina. L'impatto è stato alquanto violento. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Castellamonte e i carabinieri di Aglie. Inutili i tentativi di reanimare Centauro. Il medico legale ne ha constatato il decesso. In corso le accertamenti sulla dinamica del sinistro. Pare che la vettura stesse uscendo dal distributore di benzina mentre stava sopraggiungendo il motociclista. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobili di Ivrea. Il tratto è rimasto chiuso al traffico, il tempo necessario a rilievi e alla rimozione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.